Kovas e Gorgon Kovas è una piccola loconchipa che aggora rendersi utile è la numero uno ed è cucca blu ed è un piccolo cucco gorato ma oltre a lei ci sono anche altre loconchive e tra queste ci gorgon la più grande e la più veloce ogni volta che Kovas le incontra le dice sempre spiegati Gorgon che mi piaci di più quando sei al lavoro un gioco però Gorgon era arrivato al depostico ed era molto stanca ma Kovas le passò accanto e la spiegò vedi a chi gorgon vuoi pregermi per colpa di Kovas Kovas Gorgon riusciva più a addormentarsi ma la mattina come si dov'è che svegliare presto come si dov'è che svegliare presto oh ah ma liggio oggi che voglio carri il gorgon a creare il suo espresso a secco e la cattiva il bec o stagge la scanchezza comas usci o stagge la scanchezza o stagge la scanchezza e la cattiva comas comas preparava il suo espresso ovviamente ovviamente il gorgon era bronca se bronco camas questo e se che poce 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 i non le forza, forza, forza fiume alci, fiume alci, fiume alci in città come sono bella il riso ma è meglio che non ce l'appago più ok 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 se calmente come si può che fermare perchè arriva con una scazione così ok se c'è un ganchetto non va, la cosa dell'acqua più lucega ottimo lavoro, gli segalò non sapevo che non fossi così veloce guardi anche io sospirò Cavas poi tirò lo sbuffo come si può che fare i scanchetto i scanchetto si è un ganchetto che vuole che vuole l'acqua più l'acqua più lì sono bella si è un ganchetto è un ganchetto